ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi video di recensione su cavi che vi consiglio di acquistare io ho fatto anche un piccolo video in cui quando sono andato in spagna precisamente minorca ho utilizzato questi fili per tutte le mie esigenze per esempio un piccolo filo per il power bank abbiamo i fili sono varie misure un metro due metri addirittura fino a cinque metri questo è il filo più grande e questo è il filo lunghissimo per esempio se avete bisogno anche di collegarlo direttamente in una spina o avete il computer lontano sicuramente è un'ottima cosa i fili possono essere anche vengono messi in questo modo vengono tolti in questo modo ecco i cavi sono hanno un filo doppio in cui avete la possibilità di non avere problemi il cavo che si incrocia con altri fili avete meno fastidi su questo punto di vista a e la cosa bella quando andate a collegare il cavo anche con un power bank che trovate anche sul mio canale questo tipo di power bank avete la possibilità che la notte si illumina quando caricate un telefono quando caricate direttamente il power bank a una spina diventa di colore verde dentro alla porta usb avete la possibilità di ricaricare molto velocemente il caricatore la porta è usb tipo c non so se riuscite a vedere alla ricarica fast charge 3.1 e il led come ho detto che ricarica i telefoni computer power qualsiasi cosa in modo molto ma molto bello manca anche il link in descrizione di questi passi fili e ogni tipo di esigenza se volete il filo piccolino per caricare mezza la strada con un power bank da 10.000 mAh ricarica veloce un port usb tipo c due porte di entrata con un porto di uscita di questo power bank e sicuramente il filo anche con il led che vi permette di ricaricarlo è un'ottima cosa secondo il mio punto di vista se volete per esempio di caricare un telefono avete un cavo più lungo non volete spostarvi dal letto e avete la spina molto lontano avete quello da 5 metri che molto ma molto lungo o tre o cinque metri se non mi sbaglio e poi dentro la confezione trovate anche marca iniu sempre della marca iniu prendo sempre i fili alla fine anche i power bank se riuscite a vedere e della marca iniu sicuramente è un'ottima cosa poi avete anche la possibilità di richiudere i fili per esempio vi faccio vedere con esempio con il piccolino perché quelli grandi ci vuole un po più tempo velocemente basta piegarli in questo modo perché hanno anche un cavo molto resistente e avrete possibilità di piegarlo come volete in questo modo stringere potete tirare non si fanno nodi veramente è molto interessante poi se le volete chiudere in ogni caso volete rimettere nella scatola potete fare in questo modo come farò vedere adesso ecco qua vedere questa riuscita a vedere questa porta lo mettete all'interno direttamente in questo modo così avete anche il cavo potete mettere in tasca senza nodi veramente è un'ottima cosa da parte di iniu come cavi mi piacciono molto le utilizzo quasi tutti i giorni per varie misure quelli da 5 metri non utilizzo quasi mai perché non ho una distanza tale per mettere un caricatore però comunque vi consiglio di acquistarli così avete i cavi per ogni esigenza perché le porte usb sono tipo c ormai quasi tutti i telefoni samsung o android hanno le porte usb tipo c tranne apple che dovrà sicuramente anche apple forse in futuro metterà questa funzione di avere la porta usb tipo c ragazzi con questo è tutto lasciate like condividete i miei video ciao